Buonasera, iniziamo a dialogare di scoperte geografiche. Con le scoperte geografiche generalmente si fa partire, si fa iniziare l'età moderna, perché con le scoperte geografiche si rompe quello che era il mare chiuso, o si esce dal mare chiuso che era stato il mare dell'età antica e del medioevo, cioè il Mediterraneo. Sappiamo che vi erano le famose colonne d'Ercole da cui non si doveva uscire e uscite dalle quali non si sapeva se si tornava indietro rappresentavano un po' un limite. Ovviamente le scoperte geografiche non sono solo la scoperta di nuovi spazi geografici, sono naturalmente anche questo, ma sono anche l'uscita da una cultura caratterizzata dall'idea del limite, che poche cose sono possibili, che l'uomo non deve andare oltre certi limiti e deve rimanere in qualche modo relegato a certi ambiti, cioè sono anche l'idea che si possono rompere certi limiti, che si possono andare oltre certi confini. Basta avere un certo metodo, basta avere una certa tecnica, determinate capacità. L'idea è insomma che nel medioevo poche cose erano possibili, ora nell'età moderna comincia a farci strada l'idea che tante cose sono possibili. Poi naturalmente le scoperte geografiche segnano anche quel processo di globalizzazione, che è una parte integrante, una parte fondamentale nella comprensione della modernità, una mondializzazione che poi viene sempre più forte, sempre più ampia. Si comincia verso il mare, verso l'oceano atlantico, che allora doveva essere una cosa enorme, se pensiamo che bisognava navigarlo con delle navi di legno, insomma, che per quanto aggiornate ai tempi, ma insomma erano sempre fragili e limitate. Pensiamo agli strumenti dell'epoca e gli strumenti che abbiamo oggi, ma poi dopo una globalizzazione che ci separa nel tempo. Abbiamo detto prima l'oceano atlantico, poi dopo nell'età contemporanea l'oceano pacifico. Da dove nascono queste scoperte geografiche? Va da una serie di esigenze che sono certamente alla base del sorgere dell'età moderna, quel periodo storico che va da 400 al 500, fine 400 e poi dopo 500, insomma da 400 al 500. E esse nascono certamente da delle esigenze economiche, dalla ricerca di ricchezze, dato anche uno sviluppo economico che poi c'è in Europa, che poi prenderà via via sempre più piedi. Insomma, la ricerca di ricchezze e anche da una serie di situazioni comunitari che si sono create nel Mediterraneo, quindi la ricerca di ricchezze, e anche da tematiche di natura religiosa, da uno zello religioso di diffondere il cristianismo in terre nuove, in terre che prima allora era stato diffuso. Beh, innanzitutto vi era una richiesta crescente di prodotti orientali e di materie prime, una richiesta crescente di materie prime e di prodotti orientali. In modo particolare poi una domanda di oro, una domanda di metalli preziosi. Ricordo che un tempo la moneta era una moneta, si basava sul suo valore, sul suo corso funzioso, cioè sul suo valore reale, sul suo valore, sul fatto cioè che avesse una corrispondenza, una corrispondenza in argente e in oro. L'oro era l'oro e l'argento, erano metalli fondamentali nella circolazione della moneta e dell'economia dell'epoca. Dopo, appunto, ricchezze, ricchezze così a cui si aspirava. Ma poi dopo era emersa una grande problematica, cioè il fatto che i turchi avevano iniziato progressivamente a conquistare le coste dell'Africa del Nord e poi allargarsi verso i Balcani, come un po' a tenaglia verso l'Europa e verso il Mediterraneo, sì perché si erano allargati nelle coste dell'Africa del Nord, Libia, Marocco, Algeri, insomma, no? Fino a occupare le coste dell'Africa del Nord, ma poi erano appunto penetrate e penetrate e penetrate anche nei Balcani. Fino a poi dopo, sappiamo, era accaduto anche Costantinopoli, che poi diventerà Istanbul. E quindi a tenaglia, si chiede bene nella cartina, a tenaglia i turchi controllavano il Mediterraneo e anche attraverso azioni di pirateria. Insomma, questo rendeva impossibile, rendeva molto difficile, tratti impossibile realizzare quei traffici commerciali che prima venivano messi in campo nel Mediterraneo. Il Mediterraneo diventava uno spazio chiuso rispetto al fatto che prima era uno spazio aperto. Faccio anche notare che i turchi non erano così, non erano un gruppo etnico di, non erano commercianti, erano soldati, erano militari, era un gruppo militare, era un gruppo etnico di così, con origine, con natura militare. Quindi mettere in campo con loro anche un terzo tipo di scambi economici, come avveniva con gli arabi che avevano invece un profilo più così, di gruppo, così più commerciale, come dire, di identità culturale, il loro modo di essere, quei turchi diventava difficile. Insomma, i turchi avevano chiuso e bloccato il Mediterraneo. In un periodo cui invece aumentava la richiesta di prodotti, di prodotti orientali, di metterie prime, di oro. Dico un'ultima cosa, non c'era la chimica allora, allora non c'era la chimica e quindi un certo tipo di prodotti venivano solo, avevano solo un'origine naturale, servivano per esempio, non c'era la chimica e non c'era neanche la possibilità di conservare la carne e quindi un certo tipo di prodotti erano fondamentali, non so, penso ai chiodi di garofano per lavorare la carne, affinché la carne non marcisse durante l'inverno. Non c'era la possibilità di congelare o non c'era neppure la chimica per realizzare un certo tipo di prodotti. E quindi, insomma, determinate spezie che arrivavano dall'Oriente erano fondamentali anche da un punto di vista alimentare, rispetto alle condizioni dell'epoca e a come conservare i prodotti, come poter conservare i prodotti. E quindi questa esigenza delle scoperte ideografiche, di un'espansione ideografica, cioè di raggiungere l'Oriente, di raggiungere l'Oriente, ma non più passando per il Mediterraneo. Perché raggiungere l'Oriente non passando più per il Mediterraneo, perché il Mediterraneo era poi chiuso dai turchi. Il paese che mise in campo questo tipo di azione sarà il Portogallo. Il Portogallo è il primo paese che lo fece in modo importante, in modo organizzato, in modo sistematico. Beh, certamente anche perché era bagnato dalla costa dell'oceano, cioè insomma, per così dire, confinava, era sull'oceano e quindi era più facile, per così dire, per il Portogallo mettere in capo, realizzare questo tipo di azione. Oltretutto va detto che il Portogallo era un territorio povero di risorse, di materie prime, e bisognoso di questo tipo di risorse. E' riuscito a costruire una propria indipendenza nella penisola iberica rispetto alla Castiglia, una propria autonomia, e questo l'aveva reso indipendente. Quindi questo alimentava la ricerca del Portogallo di proprie materie prime, di propri prodotti, e si era poi col tempo anche progressivamente a metà del 200 liberato dagli arabi. Quindi diciamo che il Portogallo aveva per certi versi le condizioni per realizzare una serie di condizioni geografiche, politiche e anche di esigenza di prodotti per realizzare un certo tipo di esplorazioni e di ricerca di nuove vie di comunicazione con l'Oriente. Avevano già provato a cercare nuove vie di comunicazione con l'Oriente, in modo particolare poi i genovesi, ma loro avevano il problema che le piccole repubbliche marinare italiane, ma la Genova era piccola, non era uno Stato ampio, vasto, non aveva probabilmente i mezzi per realizzare un certo tipo di azione, perché dietro richiedeva un certo tipo di grandi esplorazioni e dietro richiedeva la presenza di uno Stato organizzato. I portoghesi invece realizzarono un certo tipo di percorso grazie all'intervento dello Stato. Il tutto in presa e corpo iniziò nel XV secolo, l'espansione portoghese iniziò nel XV secolo con l'azione di Giovanni I, che è un re del Portogallo, il quale iniziò ad attaccare le basi arabe in Marocco e iniziò a dimostrare interesse verso le espansioni geografiche e verso l'espansione marittima. Ma sarà protagonista di questo impegno nell'espansione marittima, nei traffici marittimi, il Principe Enrico, il quale nei primi anni del Quattrocento, fino a metà del Quattrocento, realizzò quella che fu chiamata, che era il figlio del Principe Enrico Re, realizzò quella che fu la scuola nautica, la scuola nautica portoghese. Scuola nautica fondamentale per la realizzazione di un certo percorso, di un certo impegno appunto nella navigazione e nella diffusione delle linee marittime, dell'impegno e dell'ampiamento delle linee marittime del Portogallo. Dentro la scuola nautica Enrico sviluppò il fatto che se si voleva ampliare un certo tipo di percorso, si voleva uscire dalle colonne d'ercole, si voleva mettere in campo un certo tipo di viaggi e quindi potenziare l'impegno marittimo del Portogallo, bisognava disporre di certe tecniche, nel senso che era possibile sulla base di uno sviluppo di determinate conoscenze, di determinate capacità. A proposito dell'età moderna, le cose sono possibili se si hanno i mezzi, se si ha un certo metodo per realizzarle e si realizza un certo tipo di studi. Dentro la scuola nautica emergeranno le principali scoperte che poi permetteranno a Portogallo di realizzare i suoi progetti. Beh innanzitutto la caravella, un tipo di nave che aveva una sua carenatura, una sua struttura che le consentiva di navigare nell'oceano. Sì perché navigare nell'oceano è come navigare nel Mediterraneo, pensiamo alla forza delle onde, alla forza del mare, le onde che battono sui fianchi della nave, che possono anche sfondarla, possono anche naturalmente sfondarla, che sono in grado di resistere a certi urti che venivano dalle onde dell'oceano e quindi anche di navigare in certe condizioni su un certo tipo di mari. Ma poi anche un'altra grande invenzione sarà il timone di poppa, che supererà un modo di usare il timone precedentemente, il timone di poppa tramite una serie di suoi chiamiamoli ingranaggi, consentiva a un singolo uomo con una forza relativa di fare determinate manovre e poi manovre che si dimostravano più veloci perché il timone poi andava più in profondità nell'acqua e quindi più adatto a navigare nel mare tempestoso dell'oceano. Insomma Enrico svilupperà una serie di tecniche marittime che poi saranno alla base delle esplorazioni geografiche e di quello che appunto abbiamo detto sarà l'impegno marittimo del Portogallo. Sarà Enrico sui mari, sarà Enrico a gettare le basi dell'espansione marittima del momento portoghese. La prima fase delle scoperte geografiche si sviluppò diciamo fino alla morte nel periodo di Giovanni I, di Giovanni I che era il re del Portogallo che iniziò questo tipo di impegno, questo tipo di nuovo corso portoghese. Tutta essa era Enrico naturalmente in modo particolare, il principe Enrico, appunto il figlio del re abbiamo detto a realizzare questo tipo di esplorazioni e di prime attività marinare. Va detto che i risultati iniziali non furono enormi, sono risultati modesti, si arrivò alle Canarie, si arrivò a Madera, però forse quello che conta era aver aperto una strada, una strada che una volta aperta in qualche modo sarebbe stata continuata, sarebbe stata continuata negli anni successivi. Infatti il re successivo, re Edoardo, capirà l'importanza per lo stato portoghese, infatti uno stato piccolo che aveva bisogno di risorse e di espandersi, l'importanza di questa nuova linea di sviluppo che appunto è la linea di sviluppo basata sulle linee marittime, appunto sul mare, e sarà proprio lui a assumere le spese delle spedizioni. A proposito delle difficoltà che aveva avuto Genova e del fatto che non avrebbe potuto Genova andare oltre un certo livello, perché qui dietro c'era uno stato, uno stato con la sua forza, con i soldi, con delle risorse, che sosteneva questo tipo di attività, sosteneva il peso delle spese che naturalmente ingenti, che un certo tipo di attività di questo tipo, richiedeva. Tuttavia questo non era sufficiente che dietro ci fosse lo stato, perché cominciavano a facciarsi una serie di interessi, interessi internazionali. Vi sarà allora la richiesta verso il Papa di autorizzare, di concedere questo tipo di esplorazioni, nel senso che serviva un riconoscimento internazionale, non bastava al re. In quel periodo storico solo il Papa lo poteva dare. E sarà il Papa a riconoscere al Portogallo la conquista delle terre e in modo particolare il Portogallo voleva conquistare, voleva dirigersi verso l'Africa, delle terre sarà delle terre africane. Cioè Edoardo, oltre ad assumersi le spese delle spedizioni, oltre a sostenere tramite la forza dello Stato questo tipo di impegno, questo tipo di imprese, anche otterrà un riconoscimento internazionale, che è poi il riconoscimento del Papa, verso le esplorazioni geografiche del Portogallo. Abbiamo detto che il Portogallo intende le sue esplorazioni attraverso una circunnavigazione dell'Africa. Perché? Perché sembrava allora la via più, per così dire, anche più facile, più ragionevole. Non doveva essere facile inoltrarsi dentro l'oceano comunque con delle caravelle dove a un certo punto si era circondati solo dal mare e senza particolari mezzi di comunicazione, perché poi lì si era isolati all'interno dell'oceano. Una specie di deserto fatto di mare naturalmente. La via più comoda, la via più pratica, la via più efficace per raggiungere l'Oriente sembrava quella appunto di costeggiare l'Africa. Costeggiare l'Africa per trovare quello che si immaginava dovesse esserci un punto di passaggio, una circunnavigare l'Africa per trovare un punto di passaggio, un punto sotto il quale poter poi dopo virare e andare verso le Indie, verso quel mondo orientale a cui si puntava. Quindi passando il Mediterraneo, perché questo voleva dire superare l'ostacolo del Mediterraneo, non si passava per il Mediterraneo, ma circondare l'Africa e dopo trovare un punto di passaggio per raggiungere nel mondo orientale. Le esplorazioni iniziarono con il re Alfonso V, avevano esplorazioni che via via ebbero progressivo successo, ovviamente anche qui non facile come si deve immaginare, perché se pensiamo alle cartine dell'epoca, ai mezzi dell'epoca, e soprattutto ha la problematica enorme che dentro queste navi bisognava comunque garantire la sopravvivenza dell'equipaggio. E sì, perché sappiamo che non solo c'è una questione del cibo, perché il cibo comunque dopo può variarsi e dopo mangiare il cibo è variato, certamente causa dei problemi all'equipaggio, ma anche l'acqua, penso all'acqua, perché senza cibo un po' di giorni si può stare, ma senza l'acqua sappiamo che l'acqua è un elemento ulteriormente difficile, l'acqua tende, anche l'acqua tende a marcire, tende a non arrivare oltre un certo livello di durata e oltretutto ci sono navi, navi che non hanno frigoriferi, non hanno nessun tipo di mezzo, quindi anche circunarigare l'Africa non era una cosa così importante e poi si è dimostrata non essere così breve questo tipo di esplorazione. La prima soluzione venne quando nel 1484 Cao, di Ojo Cao, raggiunse le foci del Congo. Cao raggiunse le foci del Congo e lì scoprì che c'era dell'acqua dolce, l'acqua dolce a cui attraccare un po' meno della metà del tragitto, del percorso che si doveva fare per arrivare a doppiare l'Africa, a superare l'Africa e questo consentiva di trovare un punto di passaggio, un punto di ancoraggio per poi dopo rifornirsi di acqua e per proseguire il viaggio. Questo poi sarà tipico dell'esplorazione e delle grandi scoperte geografiche portoghesi. I portoghesi raramente penetreranno nell'interno, raramente, molto raramente, si limitarono a fare delle piazze forti, delle grandi piazze forti che poi erano dei punti strategici dove realizzare i loro traffici e le loro attività commerciali, a differenza degli spagnoli invece che poi quando toccherà loro, loro penetreranno nell'interno. Una volta che Cao aveva scoperto le foci del Congo, quindi la possibilità di rifornirsi d'acqua, le esplorazioni, la circunnavigazione dell'Africa poteva andare avanti. Sarà Bartolomeo Diaz, il quale proseguendo in questo tipo di percorso avrà una scoperta enorme. La scoperta a cui i portoghesi miravano, che era nell'obiettivo dell'esplorazione geografica portoghese, nel 1487 Diaz doppierà la punta meridionale dell'Africa, scoprirà il punto di passaggio, che era l'obiettivo cardine per poter circunnavigare l'Africa, doppiare l'Africa e da lì spostarsi verso le coste orientali, quello che poi sarà chiamato il capo di buona speranza. Appunto la buona speranza per gli esiti dell'economia, beh certo innanzitutto portoghese, innanzitutto naturalmente portoghese, ma il grande eroe probabilmente, il grande eroe portoghese sarà pochi anni dopo nel 1497 Vasco da Gama, il quale sapendo di poter attraccare le fuci del Congo, quindi di potersi rifornire d'acqua, sapendo che esiste una punta meridionale dove doppiare l'Africa, dove una punta a sud dell'Africa, dove l'Africa può essere doppiata e poi dopo naturalmente da lì andare verso l'India, verso le coste orientali e sarà Vasco da Gama a realizzare un viaggio che lo condurrà a quello che era l'obiettivo, il vero obiettivo dell'esplorazione portoghese, cioè l'India. Questo viaggio permetterà di arrivare a Calicut, cioè a quel porto indiano da cui poi dopo, attraverso il quale poi dopo entrare in contatto e trovare quelle materie prime, quelle risorse che ora non si può più giungere più tramite il Mediterraneo, cioè quelle source naturali che si trovano nel mondo orientale. Abbiamo già detto prima che siamo in un mondo pre-chimico e quindi una gran parte delle risorse vanno trovate in natura, sono naturali e quindi possono essere trovate solo in determinate zone del mondo e non in altri, ma poi anche i portoghesi comunque anche in Africa troveranno delle risorse importanti, in particolar modo all'epoca sembrava naturale, sembrava giustificato, anche in particolar modo li prenderanno poi gli schiavi, il commercio, il traffico degli schiavi sarà un commercio diffuso, ampio, che renderà molto, gli schiavi poi sono adatti al lavoro e il commercio agli schiavi diventerà una delle attività che poi i portoghesi realizzano anche in Africa e in Portogallo, il Portogallo poi soprattutto tramite poi dopo Calicut e un controllo di alcune grandi piazzaforti così lì in India, nell'area orientale del mondo, troverà anche la possibilità di accedere a una serie di materie prime importanti per lo sviluppo poi dell'economia portoghese e certo anche qualcuno potrebbe dire derubando i popoli locali, questo fa parte di questo processo che si chiama colonialismo. Nel 1499, probabilmente per un errore, probabilmente per un errore, un altro grande navigatore vorrà mettere in campo un'altra strada, un'altra strada, non più quella della circomanavigazione dell'Africa, ma già si sapeva che era possibile, che c'era, si immaginava che c'era un'altra strada per raggiungere il mondo orientale e un altro percorso e Cabral, e qui ripeto, per certi versi forse commettendo un errore, navigherà verso le linee, le linee marittime che aveva già navigato Colombo, sappiamo che nel 492 c'era già stato il viaggio di Colombo e si sapeva che Colombo aveva scoperto dei territori, Colombo poi ancora non sapeva quando li ha scoperti esattamente cos'erano, per molti forse penso fino alla sua morte Colombo ha pensato fosse l'India, o comunque non ha capito bene che cos'era, che era un altro tipo di continente, poi sarà l'America, insomma anche Cabral proverà a navigare nell'oceano, nella direzione che aveva navigato Colombo, solo che arriverà più a sud e arriverà, naturalmente lì non c'era l'India, come si pensava, non arriverà in India, ma arriverà in Brasile, a scoprire il Brasile. Il Brasile sarà per Matto Grosso, sappiamo, no? In Brasile. Il Brasile sarà una delle poche, l'unica credo colonia, delle poche dove i portoghesi penetreranno anche nell'interno. Diciamo, forse si può dire che ogni paese europeo ha avuto, forse per sfortuna di quelle colonie, una colonia per così dire preferita, dove ha realizzato di più il proprio modello, il proprio modello culturale, il proprio modello di vita. Ecco, forse possiamo dire che per il portoghese questo è stato il Brasile, infatti sappiamo che nell'America Latina si parla spagnolo ovunque, eccetto in Brasile dove si parla portoghese. Mi fermo qua, vi ringrazio per avermi seguito, vi aspetto ai prossimi incontri dedicati alle scoperte geografiche a Colombo e gli effetti che si hanno avuto. A presto e alla prossima!